Vai vai John Bourne ragazzi, John Bourne benvenuti in questo nuovo video Oggi soffrimo, anzi soffre lui perché sto qua con Mike Shosha Ciao ragazzi, oggi si soffrirà e non poco Mi ha detto, mi ha solo accennato quello che stiamo andando a fare Ho detto ma perché mi devo rovinare la giornata Però dai, per il contenuto lo facciamo, lo facciamo Ma dai, ma secondo me anche, ne parlavo anche con Fuse quando ho fatto il Napoli Ma anche per arrivare a dire guarda dove siamo arrivati oggi Perché, cioè, nel senso, de merda Se ne siamo magnata Sì, esatto Ma allora sai qual è la cosa divertente di tutta questa storia? È che in proporzione a Pippe e Torofai vinti Penso che la Lazio, anche vedendo un po' il palmareste delle squadre Torta la Juve e qualche eccezione Comunque la Lazio è stata la costante, diciamo, le vittorie Una volta ogni tanto, ovviamente, eh Quello che poi vince, quindi Coppetta, Italia, Supercoppa, niente da che Però, poi, se vai a leggere le formazioni Dici, ma come diresti te? Ma come cazzo sei fatto? Ma come hanno fatto? Ma infatti ti dico che c'è un derby Che poi, vabbè, avete perso però, vabbè Dove voi avete schierato una Cioè, per esempio, per trovarmi le pippe della Lazio Per metterti in questa tier list Sono andato indietro in tutte le stagioni E c'è un derby dove C'è una difesa a quattro E ho preso tutte e quattro per mettere in questa tier list No, ma Guarda, senza Senza andare troppo lontano Ormai sì, in realtà Però non ti voglio evocare brutti ricordi Ma se ti vai a leggere La formazione del 26 maggio Cioè, a un certo punto Entra Siani Cioè, titolare era O'Nazi che adesso gioca in Serie D Quindi, insomma Ragazzi, cioè Non ti voglio dire Hai perso quel derby, pensa Però, è così La vita, ragazzi Ci impone Delle scelte E noi le abbiamo sbagliate tutte E il primo che mi scrive Eh, ma Tari ha preso Però, giuro Tipo Prendo il possesso di questo canale E lo banno Veramente Lo banno per sempre Ok? Allora Allora Io nella tier list ti ho messo Tutta gente Abbastanza recente Tranne qualcuno storico Che si sa che Era molto scarso Diciamo che tutti sono più o meno Dal 2008 In poi Però, comunque Qualcuno storico Pochi Ci sono E tu dovrai schierare Questi giocatori nella tier list Dovrai posizionarli In cinque scalini diversi Lo scalino Più alto di tutti È Quello che si chiama 26 maggio E te lo spiego Cioè Quei giocatori che Con una partita Un evento Una situazione Ci hanno fatto sopra Ci hanno montato una carriera Ah, ok, ok, ok Cioè, quindi alla fine Non so manco così tanto Scar Nel senso Sono scarsi Però ce l'hai Cioè, un ricordo per quella cosa lì E quindi non ti senti di metterli Con la merda Perché alla fine Un ricordo positivo Te lo evocano Ok, tipo l'ulic Che io metterei là Perché ha fatto solo il 26 maggio Perché per il resto è un disastro E come la vedo io Poi però L'ulic Che gli vuoi dire Insomma Esatto Esatto Allora, aspetta Aspetta un secondo Mi sta Piangere il cane Vai, vai Aspetta Dopo questa Me ne devo andare Il secondo gradino Della tier list È Poteva piove Cioè che È scarso Però Insomma Quasi accettabile Ok Ora andava peggio Insomma Che magari Si impegnava No Però Cioè È quello Più di quello Non gli si poteva chiede E quindi E quindi è quello Poi c'è Ha piovuto Ok Poi c'è Il romanissimo E ironico Toppepleie E l'ultimo Cioè quello più basso È È da Roma Cioè è un infiltrato Ok È un pimpone Esatto Talmente scarso Che dava i punti a quell'altri Ok Ok È tosta Perché Ce ne stanno tanti Però addirittura Infiltrato Che tu dici Che faceva apposta Allora io Qualche dubbio Su alcuni Ce l'avevo Però Insomma Vediamo Vediamo Dove li posizioni E io voglio partire Con un calciatore storico Della Lazio Nel senso che C'è stato Tanti anni fa Ricordo che se ne parlava Un gran bene di lui Poi però A fine Si è rivelato scarso Ovvero Makinua Makinua Grande Ci vedete Makinua Makinua In realtà Ho un ricordo Un po' strano Perché quando la Lazio Se lo prese E mi ricordo che Non so Giocava All'Atalanta Dove era andato Ho fatto un bel po' De gol Si era in Serie A Non ricordo tu Ma era in Serie A E faceva gol Segnava Segnava Vabbè dai Makinua A quei tempi C'eravamo Rocky Pandev Metti pure Makinua Può essere buona la situazione No 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 Ovviamente uno che Manca la stoppava La palla Cioè Tipo Murici Murici si impegnava Makinua Dove lo metterei Dico la verità Allora non è tra i più scarsi in assoluto Quindi non è top play e non è da Roma No 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 Lo metterei intermedio perché Poi secondo me si è trovato in quel loop E è stato uno di quei giocatori Che a Roma Insomma si trovano Penso pure dalla parte della Roma Cioè che Arrivano diciamo nella grande squadra Da squadre un po' più piccole Cioè hanno un bello stipendio Magari o non si trovano Per mille motivi E però restano lì Cioè ti rimangono sul Sul groppone Non Non si schiodano più Sì quantomeno non l'avete pagato Come abbiamo pagato noi Schick Dai Sì Schick Sta gente qua Quindi ha piovuto In mezzo Secondo me sì Ha piovuto Ha piovuto Ok Sì Di seguito Io leggo Bisevac Bisevac Ci pensavo Quando tu mi hai detto Facciamo sta cosa Ho pensato subito a Bisevac Ho detto Tanto Dove potrei mettere Bisevac Perché mi sa che Non ha manco mai giocato Ha fatto tipo un paio di partite È venuto E allora Bisevac Per chi non lo conoscesse Chi lo conosce più che altro La vera domanda Non lo conosceva manco Noi ho detto Chi è Bisevac Ma secondo me Bisevac Arrivava a Formello Non lo facciano entrare Dicevano Che cazzo Vabbè Comunque avrà giocato Tipo un paio di partite Era sempre rotto Ha giocato 11 partite In Serie A E ha fatto un gol Tra l'altro Ha fatto un gol Capisci Cioè ragazzi Proprio robe che non Non ti aspetti No io me lo Mi ricordo che veniva Con la fama del giocatore esperto Che doveva da una mano alla difesa Che a quei tempi Era Rosenal Il motivo di Agite Quindi cioè Voglio dire Mi perdevi a me Aumentava la qualità E non l'ha fatto La cosa bella è che Non l'ha fatto Quindi secondo me Io lo metto proprio a pippone Non proprio come l'ultimo degli ultimi Però a pippone Perché era fracico Era vecchio Era lento Non era buono manco su FIFA Quindi dai Quindi toppe play Top play Giocatore Sontuoso Giocatore Indecoroso proprio Ok andiamo avanti Con quelli sconosciuti Praticamente Che tu conosci Ma sono sconosciuti Hai più Hai più Alfaro Lo sai che dovresti fare Tu dovresti mettere Un ulteriore Qua Qua se beccano le denunce Ma è il canale The sequel Dovi mettere Un ulteriore tier E doveva essere Stecca para per tutti Lui Ci mettiamo lui Brian Perea Tutti questi pipponi Che sono costati 3 milioni di euro Perché Emiliano Alfaro È costato 3 milioni di euro Adesso Alfaro Probabilmente ragazzi O gestisce un ristorante O Insomma Non lo so Io voglio dire Proprio la carriera Di Alfaro Per Allora Giocava nel Liverpool Ma Non quello di Inghilterra Ma a quello De Montevideo Esatto Poi l'avete preso voi È andato Ha fatto 8 presenze da voi Poi è andato All'Alwasl Poi è tornato All'Liverpool De Montevideo Poi il Buriram Il Norsted United Il Diba Al Fujara Il Pune City L'ATK E ha chiuso Con il Liverpool Del Montevideo Quindi L'unica squadra Europea Che gli ha dato Una possibilità Siete stati voi Ebbè perché Noi abbiamo Un programma Molto attivo De beneficenza Che aiuta I ragazzi In difficoltà Presi dal Sud America Spesso e volentieri Che poi tra l'altro Wikipedia suggerisce Come il suo soprannome Fosse Il Picaro Che vuol dire Il ladro Effettivamente 3 milioni Ve l'hanno Un culo No no 3 milioni Se gli sono steccati Devi andare a vedere Quanto si ciucciavate Stipendio Non credo tantissimo Però Questi sono i colpi De Tare Perché Tare Ce vede lungo In Uruguay Perché Non so se l'hai messo Ma ancora più scarso Di lui C'era il Coco Perea Forse non c'è Forse qui non c'è Mamma mia Lascia vedere Però me lo ricordo Mamma mia Lo ricordi sì Il Coco Pereira Anche perché C'avevamo Pereira Pereirina E un altro No Pereira Perea E Pereirina C'avevamo Un certo momento Mamma mia E quindi dove lo mettiamo Al Sparo Lui Lui non era giudicabile Cioè nel senso Se io Bisevac L'ho messo Pippone Lui era veramente Un infiltrato Cioè lui non è che era Un infiltrato Della Roma Era proprio un infiltrato Tra Era uno che Era chiaramente Spacciato per il giocatore E così E così ha truffato qualcuno Che non era un calciatore Quindi te lo metto in È da Roma Abbiamo Badel Allora Badel No Badel 23 presenze alla Lazio No no Badel Non piaceva a Inzaghi Non mi piaceva particolarmente Neanche a me Però oggettivamente Non è scarso Cioè si è fatta la sua carriera Cioè non è forse Da Lazio Però Quindi 26 maggio Poteva piovere Ha piovuto Top play È da Roma No secondo me Poteva piovere Cioè nel senso È uno di quelli Che non ha funzionato Cioè Semplicemente Non è andata Poi forse Comunque c'aveva Lucas Leiva Davanti Sì 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 Bastos Bastos Allora grande Bastos Allora Bastos Lo dobbiamo mettere Allora Bastos va di diritto A 26 maggio Perché grazie Alla mano De Bastos Comunque si è vinta Una coppa Italia Quindi Cessa Gasperini Ancora piange Quindi Bastos Man of the match In quella partita Chiaramente Un fallo Che andava fischiato Non è stato fischiato Va bene così Anche se secondo me Nessuno me lo leva Da la testa Che quell'anno Se sono steccati Coppa Italia La Lazio E Champions League La La Lanta Potrebbe anche essere Vabbè ma io Come avete capito Sono un po' Un po' Così Conflottista Non è vero Scherzo però Insomma Bastos Ti posso dire che però Bastos Non era Qualcosì scarso Cioè se tu vai a vedere Tutti i difensori centrali Pipponi Che ha preso la Lazio Alla ricerca del difensore Oh C'era Bisevac C'è stato Maurizio Io ho visto Detuto Wallace Cose Cioè io Guarda Se c'è qualche tifoso Da Lazio Gli starà a capponare la pelle Perché abbiamo visto Veramente robe brutte E Bastos Era uno di quelli Che comunque Era veloce Il fisico ce l'aveva Però Gli faceva click La testa Cioè a un certo punto Se spegneva E Scappellava Però Se tu ti vedi Le primissime partite Bastos Era un signore difensore Tra l'altro Noi quando l'abbiamo preso Era stato tra i migliori Se non il miglior difensore Del campionato russo Cioè una roba strana Potrebbe essere Mi ricordo Forse dal campionato russo Sì E mi pare che poi L'abbiamo venduto Secondo me pure in maniera Non so Se dobbiamo far spazio Per qualche cosa Extracomunitaria E roba così Ma però Bastos 26 maggio Cioè Tra l'altro è stato Molto equilibrato Perché per il momento I primi cinque Li hai messi uno In ogni categoria Bastos in 26 maggio Badel in Poteva Piove Makinwa in Ha Piovuto Bisevaz in Top Play E Alfaro in È da Roma Se io ti dico Un giocatore Che ha giocato nel Bayern Monaco E poi è andato alla Lazio Tu ovviamente pensi a Penso a Close Ma in realtà Io penso a Brafight È lui È Brafight Forco Ma raga Io purtroppo Ho la testa Così Non ci posso niente Però beh Peggio di lui Se vai a prendere Quelli che sono venuti Dalla Bundesliga C'è stava Leiner Mi pare Uno si chiamava Leiner Il Thor Il martello Itz Spellberg Che doveva essere Il signor giocatore Invece è stato Un pippone E no Vabbè Brafight Ah però Brafight Ti posso dire una cosa C'è stato un periodo Che ha pure giocato E Era uno che si impegnava 21 partite Sì era uno che si impegnava Poi comunque la carriera Ce l'aveva Era in alto De quelli Fraciconi Però io me lo ricordo Con simpatia Brafight Quindi Cioè te lo metto Ai livelli di Makinwa Quindi ha piovuto In mezzo Sì in mezzo Dai Ci sta Era chiaramente Inadeguato Però mi pare Che era arrivato Già che Insomma Non workava più Quindi Sì Cioè ci sono stati Molto Molto peggio Molto peggio Soprattutto sulla fascia Allora Mo ti metto un giocatore Che in realtà Alla Lazio Ha fatto poco Ha fatto tre presenze E anche poco conosciuto Però È arrivato insieme A un insieme Di stecche Tutti della stessa Nazione Ovvero Bruno Giordao Corco Ah Vedi allora Che dovevi mettere La tier list Delle stecche Eh ma Mi li mettevi tutti Là però Stecca Paravettuti Quello Voi 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 Sto romanzo E io Sì Quando arriva Il libanese Che gli fa Vabbè Allora Famo stecca Paravettuti Perché se no Al prossimo colpo Tornate da me No Secondo me Tare lo dite Hanno fatto Sto discusso Emo Tornate da me Ecco Eh Giordao Ah però Giordao Era il pippone Della stecca Perché comunque Pedro Nedo All'Wolverhamton Comunque Stava il suo Tanto mi pare Che ci abbia pure Una valutazione Molto alta È vero che il campionato Inglese è particolare Noi purtroppo Ce l'abbiamo avuto In un momento In cui Inzaghi Con le sue pare E chi adesso Di fa Inter Lo sa Che c'ha un sacco Di paranoie E non lanciava I giovani Quindi pure se c'era Possibilità Tipo Nedo Non lo metteva Ma Giordao Questo qua Era uno che Proprio Non ha fatto niente Alla Lazio Non ha fatto niente Neanche adesso Penso che Non so Gioca ancora Gioca È The Wolverhamton Anche lui Perché come sempre È stato morto È cavare Ovvio Però Il Wolverhamton L'ha fatto zero presenza E l'ha prestato Al Grasshopper E adesso gioca Al Santa Clara Wolverhamton Al Santa Clara In Portogallo Quindi Mamma mia No per me C'è Un infiltrato No 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 Proprio un infiltrato È un altro De quelli che Non è chiaramente Il giocatore È stato messo Lì apposta Allora Il prossimo Tra la cugina Di qualcuno Il prossimo Non è una pippa Secondo me Per niente Però è una grande Delusione Soprattutto per me Che lo pagai Come secondo giotto Più pagato Del fantacalcio Quell'anno E Perché sembrava Dove fosse arrivato Gesù E invece Fece un gol In 18 partite di Serie A Al debutto Se non sbaglio Gibril Sisse È stata una delusione Allora Era una pippa Secondo me Però doveva De farsi se close Lì davanti E Vabbè Aspetta Ma tu ti ricordi Chi c'era in panchina? Chi c'era in panchina? C'è stava Eddie Reia Ah l'allenatore Diceva Ok sì E tu ti facevi partite Con Eddie Reia Che non facevi un tiro In porta Però ti dico Sisse Sì è stata una delusione Perché poi Poi si è fatto solo mezzo anno E tu non sai tutte le storie Che ci sono state Per farlo Venisis Quindi Ovviamente Calcio mercato fiume Solo su di lui Però Era È stato un giocatore Che per quel poco Che ha fatto Quando è venuto L'aveva portato entusiasmo E Mi ricordo È venuto nella stessa Sessione De close E close È passato un po' In sordina Abbiamo fatto I preliminari D'Europa League Mi pare Contro una squadraccia A Roma Abbiamo battuti 5-6 golli Abbiamo fatti E tipo Sisse Non mi ricordo Se aveva fatto 2-3 gol Sì E close Tipo All'ultimo Sembrava uno Che doveva fare la cacca E non ci riusciva Poi aveva fatto gol E si è sbloccato Però Cioè Ti posso assicurare Che Sisse Gli aveva rubato la scena 100% E anche la prima Se non sbaglio Ha fatto contro il Milan Sisse Contro il Milan Sì sì Avevano segnato tutte e due Sì Allora Sì È stata una meteora Però c'è stato uno sliding doors Secondo me Perché in quel derby Se quel tira il volo Invece prende il palo Entra Cambia la carriera Si stessa ancora la Lazio Però una cosa che non mi piaceva Era che lui Era molto plateare Tipo Abram Cioè io vedo Abram È il bel giocatore Però è troppo Smanaccia Fa È troppo Non mi piacciono Quei giocatori plateali Se ne so Sbagliare al passaggio Col compagno Questo faceva Si incazzava Faceva Farer vigile Non mi piacciono Quei giocatori Fanno così Quindi Vabbè però Giocatore che Non gli vuoi di niente Te lo metto Te lo metto sotto Il 26 maggio Perché comunque Non è iconico Quindi poteva piove Insieme a battle Ci sta secondo me Sì poteva fare di più Però Perché tu mi hai detto Che il 26 maggio È diciamo Per iconicità Cioè nel senso Io lo metto tra Quelli che portano il cuore Sì 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 Ci sta Ci sono i pupilli Scarsi Non credo sia il caso Di Giorgiovic Anche se poi Giorgiovic C'è quel palo palo Con la Juve Che anche lì Se la palla Entra O se lui non si spacca tutto Dopo Che parte benissimo Magari lo troviamo Tra i migliori attaccanti Recenti Della Lazio Lui era un po' particolare Perché veniva Con tanti gol Sul curriculum Mi ricordo In una partita a Palermo Non so se aveva fatto Doppietta o tripletta E a un certo punto Aveva segnato età Insomma Un po' sfaciolato Però Guarda Rispetto a tanti pipponi Cioè Paradossalmente Sentite che vi dico Per quello che ha fatto Con la Lazio Meglio Giorgiovic De Morici È quello che ha fatto Perché si è pagato anche meno Sì no no Leva i soldi C'è proprio Prestazioni Oh Giorgiovic Più o meno Su quel tipo di giocatore Però Un minimo la palla La stoppava Cioè se poi tu vedi Che Dalla Lazio è andata al Chievo Poi è rimasto svincolato Adesso credo che faccia Il procuratore Sì Ha smesso dopo il Chievo Esatto E Oh Lo metto in A livello De Maguiwa Perché non era forte Ha piovuto Sì C'ha degli slide in dorso Per lui Se entra quella partita Però Cioè Tra l'altro ho dato Abbastanza Vergognoso 11 gol In 70 partite Con la maglia della Lazio Però l'ha fatti No è vero Devi farli C'è chi non li ha fatti E certo E certo Ce lo ricorderemo De più per la moglie Che per le prestazioni Secondo me il prossimo Non li ha fatti Anche perché era un terzino E io ricordo che A quel periodo Avevo un mio amico grande Che ti fava Lazio Che non lo poteva vedere E io lì Uno dei quei genitori Che vi siete portati appresso Tutta la vita Perché lo prestavate E puntualmente tornava Ed è Rizza Dormisi Ah Stava a dire Quando hai detto Che lo prestavate E puntualmente tornava Mi si è aperta Tipo Le pagine in testa Johnny Dormisi Vinicius Pererigna Ce l'abbiamo tutti Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Se vai a Formello Ancora stanno là Ci sono dimenticati No sì Beh Dormisi un pippone Cioè Dormisi mi si è pagato 3 o 6 milioni Pure addirittura Sì ho pagato abbastanza 6 milioni e mezzo pagato Ma sto in orbita Italia Perché poi è andato al Genoa Gentiletti 33 partite Un gol Vabbè difensore però Ah però Aspetta Gentiletti Esordio Gentiletti Il giocatore Sontuoso Sontuoso Perché prendeva palla Usciva Impostava da dietro Io me la ricordo Forse l'ho preso Pure al fantacalcio Quell'anno Ma io ho detto Cazzo Poi però mi pare Ha fatto due partite E si è rotto il ginocchio Sì Gran infortunio 6 mesi E non è più tornato Ai livelli Tra l'altro Gentiletti veniva Dopo aver vinto Una libertadoras Col San Lorenzo Sì Mi pare Sì E c'erano aspettative Però c'erano pure aspettative Perché ti ripeto Giocavi con Lorixana Siani Cioè Novaretti Cioè sta gente così Quindi A parte che ecco Forse l'accostamento Novaretti Gentiletti Ha tiltato un po' Dei tifosi da Lazio Però inizialmente Lui sembrava buono Quando si è fatto male Non è tornato più a livello E quindi Quindi poteva piovere Ha piovuto o toplay No Ha piovuto Cioè Non te lo so di Perché Sì perché Comunque tu l'hai visto due partite Due partite da fenomeno E poi Basta Quindi Non ti posso dire Che poteva da di più Perché non lo so Ci sta Ci sta assolutamente Prossimo nome Qua Sono curioso E ti voglio assolutamente Vedere Perché Voglio dire prima questo Chi vede da casa lo sa Questo non ve lo togliete Di dosso Manco Manco se vi pagano E vanno pagato Allora Il nome Come si pronuncia Ancora non ho capito Dopo anni e anni e anni Però sto parlando di Hutt Hutt Hoet Hutt Hutt La Lazio Cioè che tu vai in Champions League Ok Quindi sei arrivato Quarto Tu vai in Champions League E ti presenti Con Vabbè Murici 20 milioni In attacco E Hutt In difesa Quando invece Dovevi acquistare Dei difensori Ma lo dovevi fa Da anni E la Lazio Non lo fa Poi tu ti chiedi Perché non lo fa E non lo so Allora Hutt è una pippa Immonda Non se sa come Non se sa come Veramente La prima volta Siamo riusciti a venderlo A tipo 16 milioni Al Sadampton Cioè io penso Che quando gli hanno offerto 16 milioni All'Utito Se avete l'Utito Sta così Ma che fedda vero Ma porco Doveviatelo Cioè tutti noi Abbiamo fatto i caroselli Che si è soffiati Hutt A tutti quei soldi No ma Per farti capire La mala gestione Hutt va lì Ovviamente non gioca Perché è una pippa Lo prestano pure Addirittura A L'antem Come si chiama Quella squadra Dei cervi L'anversa L'anversa Insomma Non gioca manco La farita i polli Perché poi io Vabbè C'ho un gusto Proprio magabro Dello schifo E quindi Quando commentavo Ste cose Magari in live Così andavamo a vedere Best Top skill Hutt E vedi che questo Veniva proprio Preso per il culo Pure in Belgio Sì 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 Proprio Gli passano mezzo Alle direcchie Cioè cosa E niente Lo riprendiamo noi Praticamente gratis Perché ce lo prestano gratis Quando l'hai già venduto Era stato bocciato Da Inzaghi Quindi lo riprendi Fatto sta che Sì gli fa Qualche partita Perché stavamo Oggettivamente Sfornati in difesa Che C'avevamo bisogno E finirà la stagione Fuori rosa Perché poi lui Se n'era andato Perché lui pensava Ad essere talmente Tanto forte Che voleva giocare A titolare Ha litigato Con Inzaghi E noi l'avevamo venduto Quindi questo è tornato In mezzo a quelle pippe Ha dovuto giocare Ha fatto delle prestazioni Orribili Mi ricordo Un Torino-Lazio Dove scappella E Finisce fuori rosa Quindi questo Te fa capire Il grande etare Però Ti posso dire una cosa Io adesso ti chiederò Dove lo metti Nella tier list Ma credo che lui debba Non essere necessariamente Troppo in basso Perché alla fine Porca vacca È arrivato a zero L'ha fatto fa 16 milioni L'avete ripreso a zero Cioè E gli eravamo rimannato E gli avete rimannato Cioè 26 maggio 26 maggio No no Guarda Guarda Cioè Per come lo vedo io Uno dei più scarsi difensori Che c'ha avuto la Lazio E Quella aggravante Che se la sentiva pure Maurizio Era scarso Wallace Era una pippa Però lui Se credeva forte Quindi non te lo metto Da infiltrato Perché mi ha fatto Fa 16 milioni Ma te lo metto A pippero Top player Sì Top player Proprio nella mentalità Giocatore sontuoso Giocatore sontuoso Senti L'hai citato prima Quando hai parlato Del martello It's a Spellberg It's a Spellberg It's a Spellberg Tra l'altro è Spellberg Tra l'altro è Spellberg Famoso più che altro Perché dopo Ha avuto la sua carriera Allo Stoccarda Credo Che lui abbia fatto Coming Out E si è dichiarato Gay Sì E questo purtroppo Gli ha messo un sacco De bastone tra le ruote Nel proseguo della carriera La Lazio non ha fatto niente Però era arrivato In quell'anno della Lazio Mi sa Che poi A gennaio Insieme a Flo Carriè Stavamo andando in Serie B Quindi E fino a fatto sei partite Alla Lazio Però comunque Alla fine Guardando la carriera sotto occhio Cioè la sua dignità Dessa carriera No no ma non era male Stonvilla Stoccarda Lazio West Ham Fosburg Everton E si è ritirato Beh Ha fatto il suo No vabbè Secondo me è venuto In un contesto sbagliato Ti ripeto Siamo andando tanto male Arrivato Nonno Reia Nonno Reia Cioè se giocava Dandosi la mano Sulla linea di porta E spazzarla più lontano Quindi Se non sei quel giocatore Non giochi Poteva piovere Sì Ci sta Ci sta Perché poi non ha giocato Lo stai sì Lo stai anche Tra l'altro Assurdo perché Io ricordo brutto Di lui Cioè positivo io Perché sono urbanista Però Mi ricordo fosse una pippa Però devo dire Comunque sto leggendo anche Nazionale tedesco 52 presenze Madonna mia Sì era uno Che dici Minchia Cioè leggi il curriculum Dici oh Vieni Anche perché tu quegli anni Giocavi con Brocchi Madusalem Mamma mia Cioè stai un po' In difficoltà Insomma Mestieranti però Insomma Johnny Così No Johnny infiltrato Senza perdetempo Infiltrato proprio Un'altra stecca para Ma Veramente uno inguardabile Crossava eh Il cross li sapeva fa' Però Io pensavo potesse pure essere forte Prima di vederlo Cioè le prime volte Senti qui è una situazione In particolare Perché questo che ti sto per citare Segnava Perché segnava Soprattutto all'inizio Soprattutto in Europa League Libor Kozak Sì Io penso di aver mai visto Giorgio così scoordinato In tutta la mia vita Cioè io sono più coordinato Anche dopo di aver maniato Dell'olio che nittar sushi Cioè era tutto storto Tava tutte Comunità di infatti Però segnava Libor Kozak Giusto? Sì Libor Kozak 26 maggio Capocannoniere Di un'Eurova League Tra l'altro E No vabbè Faceva il suo Poi pure lui L'abbiamo venduto A bei soldi Alla Stonvilla Si è rotto tutto E penso adesso Stia in cieco Slovacchia Sì Se si sta ancora Gioca nello Slovaco Eh In cieco Slovacchia Quante anni no Sei repubblica cieca No vabbè sì Giocatore ovviamente Proprio preso Dalle giovanili Capito Veniva dalla primavera Poi mi ricordo Un periodo che Gli fischiavano tutto E Non so se Da una comitata L'hanno cacciato Quindi Però guarda Molto peggio Per dirti Molto peggio Rolando Bianchi Degli Libor Kozak Mi ricordo Mi ricordo Non l'ho messo eh Però mi ricordo No no Senti questo Questo andiamo veloci Tanto Nel senso L'ho messo solamente Perché era giusto Metterlo Lulic So come lo pensi Però l'ho messo a punto Perché c'è la playlist sua No 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 26 maggio 26 maggio Vabbè ma Lulic Allora È un giocatore Ti doveva piacere Comunque Praticamente importante Tecnicamente Orribile Io dico sempre Lulic c'era i pattini Se metteva i scarpini C'era i pattini Vedi che pattinava E Fin quando Lulic aveva la corsa Perché poi Ovviamente il fisico Non gli ha retto più Era pure un giocatore De spinta Io mi ricordo L'esordio a San Siro Entra sto Lulic Prende la palla Gli è da un calcio Comincia a correre così La palla ovviamente Finisce di rimessare al fondo Però ho detto Ma che ha chiesto Lulic Quindi proprio quello Presa due lire Insomma Ha fatto la storia Della Lazio Vuoi o non vuoi Ciò ricorderemo Però prevalentemente Il 26 maggio E per essere stato Un giocatore Tattico Diciamo forse Non avrebbero Mai nemmeno Pensato di dargli Né la fascia di capitano E né Di utilizzarlo così tanto In tutti i ruoli Piuttosto che non metterlo Se non fosse mai accaduto Il 26 Un po' Quello che parlavi di prima Che se è il palo Palo De Giorgio Vicentra Magari diventa Titolare da Lazio Ma no 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 Aspetta Non è una questione Di riconoscenza Cioè a livello Dei tifosi Sì Sicuramente sì Però a livello In campo Era un giocatore Utile Cioè nel senso Vabbè Stiamo a prendere in giro Io scherzo Forse è una premessa Che si doveva fare prima Piuttosto che adesso Però No è stato un giocatore Anche importante Per il livello della Lazio Però Per la sua Dutilità E per Diciamo Intelligenza Tattica Ok Più che per Tecnica Perché chiaramente Tecnicamente Ce ne stanno Molti più forti Però che fai Vediamo se ti ricordi Di chi parlo Ho fatto 14 presenze Con la Lazio Giocava dietro Se non sbaglio Laterale E veniva dalla Samp Sì No 14 sono poche 14 presenze Mi dà Forse te lo ricordi Di chi stai parlando Stank e Vicious Stank e Vicious Beh no se dici Mi pare poche 14 presenze Ma guarda Ti posso dire Alla Stank e Vicious Era una pippa Senza toglie Senza Senza giaci Era una pippa Però era una pippa Nel contesto In cui giocava E giocava Mi pare con Rosenal Cioè Tanti Tanti ancora più scarsi De lui Cavanda Mi pare Lui Spedro Cavanda Cioè Capite Vabbè Era un pippone Però Cioè era uno Che si impegnava Quindi io te lo metto Te lo metto In mezzo In mezzo Vabbè Maurisio Allora Maurisio Ti posso dire Maurisio Ah raga Buon bestemmio E anche forte Però Maurisio C'aveva C'aveva il fisico Perché era uno Che menava E basta Cioè Menava Forte Era fisicato C'aveva la corsa Correva Quindi Pure un Difensore centrale Credo che abbia giocato Pure Terzino In Russia Vabbè Sì E Quando Una volta ogni cent'anni Stava in partita Era pure un bel Difensore Pure quello Non c'aveva il click Nella testa Io non so se adesso Gioca ancora Però Era veramente Un talento sprecato Paradossalmente Noi Ci siamo un po' Pianti Felipe Luis No Sì Che muogeva al Betis Io pianto zero Perché tra lui E Romagnoli Ha gli stessi soldi De stipendio A Romagnoli tutta la vita Mi ricordo Ti piaceva No 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 Ma ci stanno tipo Dieci categorie Tra Romagnoli E David Luiz E Sì David Luiz E Luis Felipe Però Cioè nel senso Come giocatori Stiamo là eh Solo che uno Menava dall'inizio Da partita Fino alla fine E Luis Felipe Un po' de meno Però Tutte e due Veloci Tutte e due Con buon fisico Magari Felipe Un po' superiore A Maurizio Però tutte e due Che gli scattavano Cioè che il cervello Ce l'avevano O non ce l'avevano Quindi Vabbè lui è un pippone Lo metto a pippone Come tier list Però È un peccato Quindi te lo metto A top player Praticamente Lo metti a top player Però Spediti Cioè metti un cervello De un ormo dotato Senziente Dentro il corpo De Maurizio Secondo me Un difensore Onesto Ce l'hai Purtroppo non c'era la testa Senti tu Da che anno Più o meno hai cominciato A seguire il calcio È 90 98 Allora ti ricordi Mendieta Troppo sì Ok Tra l'altro Ci ho giocato anche insieme Con Mendieta Come ci hai giocato Al Camp Nou Abbiamo fatto una partita Al Camp Nou Con Kluivert e Mendieta E qui Il primo tempo Giocava insieme a me Quindi quando sono andato lì A salutarlo Gli ho fatto Ciao Lo parlavi italiano Mi ha detto Dove ti metti Ci siamo scambiati In po' di parole Ci siamo guardati E ha fatto Oh io sono della Lazio C'è stato tipo Io ho detto E poi ho detto Oh io sono della Lazio È stato un secondo E ci siamo guardati Nell'occhio Secondo me lui Gli è passata La vita davanti È morto Celebramente un secondo E poi è ripreso Fa grande Abbiamo cominciato già Senza capelli Tra l'altro Invece quando era venuto Da noi C'era tutto il caschetto Allora me indietro Io me lo ricordo E non me lo ricordo Perché avevo dieci anni Circa Però noi l'abbiamo preso Come il centrocampista Più forte della Champions League Il mio centrocampista Champions League In quell'anno Il Valencia de Cooper Ha fatto la finale Champions E era come se adesso Tu ti vai a comprare De Bruyne Sì Guarda ti do anche Delle indicazioni Lo pagaste 89 miliardi di lire L'avete preso Come sostituto Di Nedved Ed è il secondo Acquisto più pagato Della storia della Lazio Dopo Hernan Crespo Sì sì Vabbè ma quegli anni Erano gli anni d'oro Della Lazio Io non so se quello È stato l'errore Che poi ha fatto cascare Il castello Perché quegli anni La Lazio vendeva E poi sostituiva Il grande campione Con un altro grande campione Cioè vendivieri Prendi Crespo Vendi Nedved Poi c'è tutta la storia Tu prendi Mendieta E c'avevi una squadra Fortissima E Mendieta purtroppo Non ha reso Rispetto a quello Che dovevano essere Premesse Però è pure vero Che poi Da lì a poco C'è stato tutto Il macello economico E forse Si poteva Gli si poteva dare Ancora Più tempo Non so Io ho sto rimpianto Rispetto a quello Che mi ricordo E forse Gli si poteva Da un po' di più Però Mi ricordo pure E forse bisognerebbe Andare Che pesca Insomma Le prestazioni Che non giocava Gran che bene Però vieni Dal calcio spagnolo Cioè Notoriamente Gli spagnoli In Italia Fino a un certo punto Da qualche anno fa Non è che si esprimevano A grandissimi livelli Infatti c'erano pochissimi spagnoli Nel calcio italiano Se ti ricordi Poi mi ha cambiato Sì ma anche Prima del Del Europeo mondiale Europeo della Spagna La Spagna E fosse sta nazionale Così Vabbè Era proprio in Italia Cioè tipo Fino al 2000 Cioè Gli anni d'oro Del calcio italiano No Consideriamo da dopo La finale D'Ultrafford Cioè se tu vedi Quanti spagnoli Giocavano in Italia Erano pochissimi Oppure con Guardiola Viene in Italia E floppa Sostanzialmente Dove te lo metto 26 maggio Poteva piove Ha piovuto Top play Secondo me Secondo me 26 maggio Solo perché Comunque Diciamo Con lui concide Il downfall Della Lazio Cioè Di quella Lazio Soprattutto Cioè È l'emblema Di quella Lazio E da lì Cascaduto Quindi 26 maggio Quindi in qualche modo Non in modo positivo Ma in qualche modo Te lo ricordi Penso Mendieta Chiede a chiunque Segua il calcio Da Ecco per esempio Come me Non te lo puoi Dimenticare Senti dai Passiamo da un ricordo Vabbè Non positivissimo Però un ricordo A un ricordo negativo Ovvero Murici Beh Murici Murici è un meme Murici è un meme Murici Allora Murici Se vedevi I numeri Era buono Se vedi ancora I numeri adesso Dici Vabbè O sta a fare il suo Perché al Mallorca È rinato Se parla pure Se parlava Ovviamente Ma chi se lo compra Ecco Alla Lazio Non è andato niente Poi io Ripeto So pure alcune cose Da Spogliatoi No spogliatoi Però diciamo Backstories Eh ragazzo Purtroppo Comunque Voi dovete pensare Che tu vai alla Lazio Se pagano 20 milioni Che tra l'altro Penso sia pure L'acquisto più Importante L'era rodito Comunque tra 20 milioni Ben giocatore Ci sanno delle aspettative Comunque la Lazio C'ha bisogno Di un'altra attaccante Vedi adesso Che non ce l'ha Se fa male Immobile È finita Però comunque Tu stai dietro Immobile Quindi Devi pensare Che vai a Roma Te siedi Quando È il momento tuo Giochi E probabilmente Lui ha subito questo Cioè ha subito il fatto Che davanti C'è un giocatore Che non puoi togliere Che poi è assurdo Che ha fatto male Solo da voi Perché Fenerbahce 15 gol in 30 partite Mallorca 15 gol In 28 partite Da voi un gol In 38 partite Oh però Da noi non stoppava Una palla Cioè tu hai ragione Tu hai ragione Però diciamo Che è una questione Di testa Secondo me Mi sta al fatto Che io L'ho visto giocare Cioè questi Prima che succedesse tutto Prima di tutto Entra Morici Non sta Cioè Non sa stoppare una palla Soprattutto è alto Due metri Dici Vabbè questo mo Le pia tutte le testa Non pia una palla Le testa E allora dici Mori 20 milioni È chiaro che un po' È tutta una cosa Però è un po' un meme Chi mi segue lo sa Cioè È un pippone Un pippone Un pippone Top Guarda no Per essere buoni Te lo metto Ai livelli di Magiwa Dai Ha piovuto Ha piovuto Però Cioè Ci saranno più scarsi Però Per quello che ha fatto Per quanto è stato pagato Orribile Orribile Me li davi a me Te giuro Me li davi a me Facciamo Morici Anche perché il gol Che ha fatto All'Atalanta Lui ha fatto due gol Tipo a tre giorni di distanza Per tirare l'Atalanta Duda Pin Si Hai trovato la palla là L'ha buttata dentro Ma No guarda Scarzo Scarzo Mi dispiace Te ne sono rimasti pochi Uno di questi è Nani Eh Nani In realtà Ha fatto il suo Cioè Ha fatto il suo Per quel poco E poteva Comunque è venuto È arrivato già vecchio Svernato Insomma Non è che è venuto Quello del Manchester United Qualche golletto L'ha fatto No Te lo metto A Poteva piovere Cioè Ok Senti Tornate ai Pipponi Tornate ai Pipponi Va Novaretti Mamma mia Il Diablo Il Diablo Novaretti Gioca ancora tra l'altro Penso un po' Ok A carte Belgrano In Argentina No 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 Lui era un infiltrato No lui era proprio scherzo Veramente scherzo Feceva proprio la faccia da tossico Mi ricordo che c'era Ne Coca Ne Borghetti Tutti fatti come Novaretti Cioè Era una cosa proprio Orribile Non si poteva vedere Non si poteva vedere Novaretti No no Senti qui ti tocco dell'orgoglio Vai Perché qui Beh adesso È difficile dirlo Io l'avevo Anche pensato di metterlo L'anno scorso Adesso la situazione Sembra cambiata Perché qua Avevo inserito anche Patric Gasbarron Il Patric Caparron Beh allora Allora Ripeto Pure lui Grande meme Allora Lui ha passato Degli anni Che Te lo giuro Mi fai sta domanda Due anni fa Te lo metto Infiltrato Senza Senza dubbio Adesso Te lo metto A 26 maggio Perché È uno Che forse Dipende pure Dall'allenatore È uno che si impegna È uno che Chiaramente Rispetto Tu fai una tier list Di tutti i difensori Della serie A Guarda Fai all'Empoli Fai all'Ospezia Trovi dei difensori Più forti che Patrick Però Lui ha delle caratteristiche Che è raro trovare Nei difensori Cioè è veloce E c'ha i piedi Poi difenderne è buono Altre cose Pure lui la testa Non è che ce l'abbia Tanto Perché spesso Gli sfarfalla Però Negli anni Se tu vai a vedere Come era Patrick Qualc'anno fa Ma adesso È cresciuto Cioè è migliorato tanto Poi Ci sta Siamo sempre la Lazio Non compramo i difensori Quindi te trovi A giocare con Patrick Però Per esempio Come gioca adesso Sarri È stato Tra gli artefici De quelle otto partite Senza subi gol Oh E tu c'hai Patrick E non prendi gol Cazzo Vorrà di qualcosa No Quindi Poi è chiaro Vai a giocare col Bayern Monaco E se deve marcare Lewandowski Che devi fare Eh no Non so Questo è ancora C'è ancora 22 anni Un classe 2000 Ne parlavamo prima Vale 32 milioni oggi È l'ultima parte Della stecca portoghese Pedro Neto Pedro Neto È quello che ti dicevo prima Eh sì Eh Neto Neto si è trovato Koinzaki E non lo Non lo metteva Perché Koinzaki C'è i suoi dogmi Forse poteva fare un po' di più Non è un rimpianto Perché comunque Era una stecca Cioè lui è venuto perché Mendes ha venduto Keita a 30 milioni E quindi tu a 30 milioni Ti sei preso Neto e Giordao Ovvio che se lo dici così Dici che Però Nell'economia del calcio Dai ce ne dimentichiamo È un bilancio È un bilancio Anzi non lo diciamo Non lo diciamo No no In questo periodo Non parliamo di No no Telecamera No no Fluss Valenze No 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 Perché poi dall'altro Se tu vedi la storia della Lazio Cioè le stecche sì Sono chiare Cioè sapete Però A livello di queste plusvalenze Cioè il problema della Lazio È l'indice delle liquidità E voglio dire Fa una plusvalenza fettizia Che lo risolve in 10 minuti E non lo fanno Quindi Io raga Ho un sogno nel cuore Questi si svegliano Penalizzano tutti E tipo Ti ricordi la storia Quella la mai dire Del pattinatore Che cascano tutti e vince E tu vinci lo scudetto E lui vince lo scudetto Dai L'ho detto Sei senatore Adesso sei senatore della Repubblica È un'occasione unica Vabbè Comunque no Dove ho metto sto Pedro Nedo qui Che mi guarda Pedro Nedo mettilo al centro Dai Non lo so Ti credo di Non ha fatto niente comunque la Lazio Senti Te ne mancano 5 Per Pererigna 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 è infiltrato vero Pererigna In alto di quelli che Io mi ricordo Tare A un certo punto Così Tare Sei Tare Pov Sei Tare È gennaio E il fax non funziona Veramente Ti è successo di tutto Devi comprare qualcuno Ti butti tipo Football manager No Vedi là Vedi Chi ci sta Chi ci sta libero Pererigna Luis Sa Cioè Elder Postiga Cioè Te porti sta gente No Per Pererigna È ingiocabile Ingiocabile proprio Beh farite perché Mi hai citato proprio L'ultimo gioco di mercato Ma quello dopo Pererigna E Sa Lui Sa Vabbè però Sa Vedi Te viene questo Il curriculum C'è là Tu c'hai bisogno Dell'attaccante Poi ovvio che Non performa Perché O prendi vecchio Sei giocato da voi Sì Poi tra l'altro Mi sa che fa pure Il procuratore Lui non so che fa No vabbè Sa Non ha fatto niente Allora A livello di carriera Non te lo posso mettere a pippone Proprio quello che ha fatto Alla Lazio Non ha fatto niente È tra il pippone E l'infiltrato Cioè dove A livello della Lazio Dai metto il pippone Ok Dennis Vavro Ah ok Infatti Porco Vavro Ci stavo arrivando Piano piano No pure Vavro Vavro Un infiltrato Non è manco Un calciatore Tra l'altro Con l'aggravante Pure lui Che si sentiva Calciatore vero Si sentiva importante Tra l'altro Lui gemello di Skrignar Viene la Lazio Con la nomea Di essere gemello di Skrignar Pagato 10 milioni Sì mi ricordo Una merda proprio Guarda Voi i calciatori Non dovete pagarli Noi i difensori Non li dobbiamo comprare È diverso Cioè ci devono Ecco Capita in mano Perché se tu vedi Cioè Lazio Dei difensori buoni Dei tempi di De Vrij De Vrij Sostituisci De Vrij Con Acerbi Sostituisci Acerbi Con Romagnoli Il resto Una merda Il resto Cioè andiamo E te È uguale È uguale Cioè mi stessi risultati Allora Te l'ho lasciato in fondo Cioè l'ultimo Vabbè È un meme No l'ultimo L'ultimo è un colpo di scena Un plot twist Ne parliamo tra poco Però quello prima È il mio 26 maggio Vai Cioè Wallace Cioè Lui è proprio Il mio Mamma mia Wallace Allora Wallace Ho scoperto da poco Che ha vinto tipo Il campionato in Cina Insomma O la serie B in Cina Perché Oggettivamente E proprio E ho pensato Che me l'avresti messo No E se io penso a Wallace Penso a sto fatto Ragazzi Ditemi se non siete indignati Cioè Wallace Nonostante sia una Pippa Una busta Proprio uno che Cioè I piedi ce l'ha attaccati Alle caviglie Ma perché È così È natura Lui Se andate a vedere Se fate la somma Di tutto quello che avrà guadagnato Nella sua vita Cioè noi se ci mettiamo tutti insieme Non ce l'arriviamo Ma questo se l'è rubati Sì però è colpa vostra Perché solo voi siete riusciti A fare 54 presenze No è colpa È grazie a Mendes Ti ripeto Mendes Il suo procuratore Che riesce a vendere Sta gente No lui è una Uno scarso Uno scarso Tra l'altro me lo ricordo Anch'io Quello che fece Dentro l'area Fa il doppio passo Sì Ma tu Infatti Lì ha finito Wallace C'è iniziato il meme Della spazza Che poi ha cogiuto Con i bagni E c'è iniziato Proprio da Wallace Sì vabbè No vabbè Ma forse Da Paolo Negro Vabbè quello sì Quello sì è vero Vabbè Sì no no Lui scassa Cioè Al di là di quello Cioè lì è stato Proprio l'emblema Di uno che non capisce Dove sta Cioè ci può sta Che tu sei limitato Tecnicamente Non fisicamente Perché il fisico Ce l'aveva però Però tu là Stai proprio sconnesso Cioè non capisci Dove stai Per questo A certe volte Tu prendi Il giocatore De fisico Ma devi pure Sperare che C'abbia un cervello Io infatti dico Ragazzi Ma Ci riusciamo a comprarci Della gente Normo dotata Che Capito Cioè che C'ha il cui normale Non è che deve essere In genio Il cui normale Che si mette in piedi Davanti all'altro E comincia a correre Allora guarda L'ultimo nome Me lo devi indovinare tu Però è Perché l'ho messo ultimo Perché è molto particolare Perché magari Secondo me I più giovani Manco lo sanno Cioè lui ha fatto Ha fatto due stinta Alla Lazio Il primo ha fatto 12 presenze Poi l'avete prestato Poi è tornato Ha fatto 40 presenze È stato anche capitano Della Lazio Almeno una partita Perché stavolta C'è la fascia Quindi almeno una partita È stato capitano Ha chiuso in Italia Non con voi Però quest'anno Ok Forse lo so So di chi farli Un centromampista Io se non ricordo Ma lei era terzino Però quest'anno È entrato Nella storia Del calcio Ah sì Ok Ok No perché Ok sì 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 Però è stata una pippa Della Lazio Chi stavi pensando tu? No inizialmente Pensavo a Baronio Poi ho detto Mi hai detto Perché capitano È stato capitano Della Lazio Non sapevo Non mi ricordavo Che Scaloni È stato Capitano Della Lazio Io nello Scaloni Io nello era un po' Una mascotta Ti dico la verità Cioè non era uno che giocava Poi quando ha fatto Quelle 40 presenze Era sempre perché Ci siamo ritrovati In un momento Del Lazio Veramente terribile E quindi Non c'era nessuno Peggio di Scaloni E quindi mettevamo Scaloni Scaloni che però Veniva dal Deportivo La Corugna Storico Quello lì Con Tristan Quello che aveva battuto Il Milan In Champions League 296 presenze In quel Deportivo Sì sì ma è stato Sì quello era Un Deportivo storico Di Cialmenia Vabbè gente Un altro calcio No lui Oggettivamente Quando è venuto Da Lazio Era un modesto terzino Cioè ne potevi beccare Tanti più forti Poi vabbè Giocava Oddo Titolare Quindi ovvio Non giocava No però Mi ricordo Che abbiamo vinto Un derby Che c'era Scaloni Titolare Era una squadra De pippe Forse quella con Mutarelli C'era Mutarelli Scaloni Quindi insomma Però lui Rispetto a tanti altri Era uno che Quando lo chiamavi Si impegnava Cioè era quello Però faceva il suo Per me è 26 maggio 26 maggio Ma non perché ha vinto Il mondiale Perché capirai Lo stesso quando vi Cioè Un giorno Ma se avessi mai pensato Un giorno L'allenatore dell'Argentina Vincerà Prima la Copa America E poi il mondiale Il primo mondiale Di Messi Allora Sinceramente no Sinceramente no Però Non è che li conosci I giocatori No Io neanche De Simone Zaghi Te potevo dire Che sarebbe diventato Un grande allenatore No quello è vero Però ci penso ogni tanto Cioè è proprio strano Cioè è come se pensi adesso Che so dimmi un panchinaro Da Lazio Un centrale difensivo Panchinaro Che c'avete Una marea Vabbè Lo stesso Che ho citato prima Quello che stanno Pre Dormisi no Che magari che ne sai Tu dici Sta pippa Un giorno diventerà Il nuovo Campione Vabbè Perché fortunatamente Sì 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 Beh Perché fortunatamente Non devi essere un grande giocatore Puede essere anche un grande allenatore Tanti Sono stati allenatori Cioè tanti allenatori Non sono stati calciatori O Forse Forse Facilita un po' la storia Però non è Non è detto Non me l'aspettavo Però È pur vero Che con quella squadra lì Quando ci hai Messi Devi solo motivarli Sì Il CT in generale Non è che fa tantissimo Come allenatore È vero Seleziona E Immagino che sia Sia un grande motivatore Perché quello lo era Cioè lo vedevi Che era Una persona Un personaggio De quel tipo Poi gli argentini Sono particolari Vabbè No no Mi aspettavo di peggio Ti posso dire la verità Abbiamo finito Ti aspettavi di peggio Chi ti aspettavi Chi c'era di peggio Ma la storia della Lazio Lo so Cioè Capito Cioè Te ne posso dire Mille Ergambeta Carriso Ce ne stanno Una cifra Perché poi Tu li Per il meccanismo Di difesa Alcuni li rimuovi Perché non puoi pensare Che hai giocato Con Con certi pipponi Però A volte ragazzi Tipo Gabby Mudingai Porco De Gabby Mudingai C'è stata Una marea C'è stata una marea Come si chiama Quello lì Che fingeva Da vecchie 18 anni Ah Minala Minala Joseph Minala Porca miseria Perché tu non ti ricordi Quelli che aveva comprato 11 giocatori Comprati in un'ora Dallo dito Quando era arrivato Ha comprato Rocky Gemelli Filippini Poi Mea Vitali Mattias Lechi 11 giocatori Comprati in un'ora Sì sì Ha comprato un sacco Di giocatori Tutti regalati No Mea Vitali Capitano Dell'Under Che era Under 20 Del Venezuela Una roba Che poteva giocare No no Keller Keller Stiamo qua Una giornata Allora io ti ringrazio Per esserti Per esserti presto Da questa pazzia Madonna mia Madonna mia Io Voglio sapere Da voi a casa Ragazzi Dove avreste messo Soprattutto quelli che Mike ha messo Infiltrati Voglio sapere se Confermate la scelta O se magari Avreste messi un po' più su Guarda Facciamo un gioco Scrivete sotto Nei commenti Il calciatore Della Lazio Più scarso L'avete mai visto a giocare Ce ne avrai Ognuno per gusto Voglio vedere Anche non tifosi Della Lazio Perché magari L'avete visto Giocare Dice questo è proprio Un pippone E io confermo Sì ragazzi Se avete pensato Che era un pippone Era perché lo era Ok Lo era E allora ragazzi Grazie a tutti Grazie a Mike Buon c'è All'Allene come sempre Ci vediamo ad un prossimo Video Ciao